Shalom, shalom, shalom. Prima di iniziare questa lezione voglio lodare, ringraziare e dare tutto dovuto al Padre Yehawah che il mondo dall'ignoranza chiama Dio nel nome di suo figlio Yehawah Shai, nostro re e salvatore che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù. Miei doppi onori agli anziani e apostoli della Great Millstone per avermi insegnato questa verità e pace alla casa di Israele. Questa lezione sarà basata sulla prima parabola che il figlio del Padre Yehawah Shai ha raccontato che è davanti a una fola e questa parabola è così importante che contiene un po' di tutto, anzi contiene tutto. E dalla forza di Yehawah Ba'Hshem Yehawah Shai, Ba'Hshem significa nel nome. Questa lingua che avete appena sentito è l'ebraico antico, perciò si dice Yehawah che è il nome del creatore e padre, Ba'Hashem nel nome Yehawah Shai, nel nome di suo figlio Yehawah Shai, ok? Bene, spero che questa lezione vi possa edificare. Iniziamo subito leggendo dal Vangelo secondo Matteo, Vangelo di Matteo e leggiamo dal capitolo 13 che si legge. Le parabole del regno dei cieli, il seminatore e i diversi terreni. Inizio a leggere. In quel giorno Yehawah Shai uscito di casa, si mise a sederne preso in mare, e una grande folla si radunò intorno a lui, così che egli, salito su una barca, vi sedete, e tutta la folla stava sulla riva. Egli parlò loro di molte cose in parabole, dicendo, Sì, abbiamo visto questo primo versetto, era Yehawah Shai, era uscito da casa e si vedeva che questa folla iniziava a seguirlo, non riuscivano a sentire qualcosa di speciale in lui, e c'era così tanta folla che ha dovuto mettersi nella barca in mezzo al mare. E parlava, dicendo, continuiamo a leggere, Il seminatore uscì a seminare, mentre seminava, una parte del seme cade lungo la strada, gli uccelli venero e la mangiarono, un altro cade in luogo rocciosi dove non aveva molta terra, e subito spuntò, perché non aveva terreno profondo, ma, levatosi il sole, fu bruciata, e non avendo radice inaridi. Un'altra cade tra le spine, le spine crebbero e la soffocarono, un'altra cade nella buona terra e portò frutto, Dando il cento, il sessanta, il trenta per uno, chi ha orecchia, orecchi oda? E qui è molto importante perché quando le scritture dicono, chi ha orecchi oda? Queste comunque sono le parole di Yahawas Shai. Perdonatemi. Queste sono le parole, questo è Yahawas Shai che parla, che il mondo dà ignoranza, chiama Gesù. Ok? E allora i suoi discepoli si avvicinarono e gli dissero, perché parli loro in parabole? Cioè, i discepoli erano rimasti stupiti perché, prima di tutto, nemmeno loro avevano capito questa parabola, e aspettavano che, visto che c'è tanta gente radunata per ascoltare queste parole, invece di spiegargli le cose facilmente da capire, gli ha parlato in parabole. Ora, poi, ora adesso capiamo il motivo perché gli parlava in parabole, che è qui. Allora, i discepoli si avvicinarono e gli dissero, perché parli loro in parabole? E gli rispose, loro, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato, perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto, anche quello che ha. E' molto importante capire questo versetto 11, perché le chiese del mondo, che non sono altro che le filosofie di Babilonia, che sono delle menzogne e sono delle tristezze, sono delle miserie, vi insegnano che l'Evangelo è per tutti. Dio ama tutti e non c'è nulla di verità in queste parole qua, perché questa conoscenza, questa verità non è data a tutti. Qui avete sentito dalla bocca del figlio del creatore, Yehawashai, che il mondo dall'ignoranza chiama Gesù. Questa verità non è data a tutti. Ora continuiamo a leggere. E gli rispose loro, perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato, perché a chiunque ha sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chiunque non ha sarà tolto, anche quello che ha. Per questo parlò loro in parabole, perché vedendo non vedono e udendo non odono, ne comprendono e si andiempie in loro la profezia di Isaia che dice, voi udrete e non comprenderete, guarderete e non vedrete, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duri d'orecchio e hanno chiuso gli occhi affinché non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi, non comprendano con il cuore, non si convertano e io non li guarisca. Ed è quello che è. Questa verità non è data a tutti, è data come si trova nel libro, ora andiamo velocemente a vedere dove si trova, ok, si trova in Apocalisse, scusatemi, Apocalisse 7.4 Allora, sono venuto qui velocemente per farvi vedere qualcosa, per farvi vedere che questa verità non è data a tutti, ok, è data prima di tutto solamente alla casa di Israele e poi non tutta la casa di Israele, è data a 144.000 letti e un terzo della casa di Israele. Qui in Apocalisse si legge e udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo. Questo è il sigillo, anzi, leggiamo dal primo versetto così si capisce. Dopo questo, vedi quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra e trattenevano i quattro venti dalla terra affinché non soffiasse il vento sulla terra, né sul mare, né su alcun albero. Beh, questo libro è abbastanza profonda e preferirei fare un'altra lezione separata, se no andrò fuori dalla lezione che voglio portarvi fuori adesso. Poi vedi un altro angelo che saliva dal sollevante, anzi, vi spiego velocemente. Questo è Giovanni che vedeva questa visione e dice che vide quattro angeli che stavano in piedi ai quattro angoli della terra. Questi angeli, ok, e trattenevano i quattro venti della terra affinché non soffiasse il vento sulla terra, né sul mare, né su alcun albero. Questo sta parlando proprio della distruzione. Erano i quattro angeli che dovevano soffiare questo vento che è la distruzione, ok, Poi vedi un altro angelo che saliva dal sollevante e quale aveva il sigillo del Dio Yahawa vivente, ok, quindi questo sigillo è il sigillo del padre Yahawa, e gridò a gran voce ai quattro angeli, ai quattro era stato concesso di danneggiare la terra e il mare. Avete visto? Qui si legge, si capisce poi, che quei quattro angeli dovevano danneggiare tutto, ok, dicendo non danneggiare la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo, i servi del nostro Dio Yahawa, ok, e udì il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, ecco, il famoso sigillo che dicevo, che è il sigillo del padre Yahawa, o scusatemi, segnati con il sigillo, il numero, 144.000 segnati di tutte le tribù dei figli di Israele, perciò avete visto questo punto, intanto, boccia tutte le religioni, e boccia tutte le chiese, ok, che dicono la verità è per tutti, non è un tubo per tutti, ok, qui si legge, che erano 144.000 figli di Israele, avete visto? E qui, se continuate a leggere, per ogni tribù erano 12.000, ok, per ogni tribù erano 12.000, ok, e dice qui, dopo queste cose guardai e vidi una folla immensa che nessuno poteva contare, proveniente da tutta la nazione, tutte le nazioni, tribù, popolo e lingue, che stavano in piedi davanti al trono e davanti all'angelo, vestiti di bianche veste e con delle palme in mano. E questo ha a che fare con il tezzo. se andate a leggere sul libro di Zeccaria, penso capitolo 1, e lì si vede che due terzi della casa di Israele verrà distrutto con i figli dei malvagi, ok, e questo terzo che sarà salvato sono i figli di Israele che sono sparsi in tutto il mondo, come vi avevo spiegato in altri video, che i figli di Israele sono in ogni angolo della terra, non importa che colori sono, perché tanti sono miscolati con altre nazioni e sono come quegli altri nazioni, ok, perciò qui spero che riuscite a capire questo punto qua e ora torno a quello che stavamo leggendo, che è il libro di Matteo, capitolo 13, che è la prima parabola, ok, e perciò avete capito il motivo, perché questa verità non è data a tutti, ok, infatti se guardate il giorno d'oggi, questa verità non è data a tutti, perché ognuno crede in quello che vuole credere, vanno dietro carriere, vanno dietro le cose mondane, che non ha senso, anche se il padre dice che dobbiamo pregare affinché il suo regno avvenga, su questa terra, ok, ma sembra che nessuno vuole questo regno qua, sembra che tutti vogliono avere un pezzo di questo regno, ma il regno, ad avvenire dal cielo, non lo vogliono, ecco, infatti, questo insegnamento saranno pochi ad accettarlo, e questo insegnamento non è per tutti, è lo spirito che detesta, ok, posso spiegarvi le cose finché, finché posso, posso essere anche l'insegnante migliore del mondo, ad insegnarvi queste cose, ma se non vi è data per conoscerla, non la capirete, punto e basta, e continuiamo a leggere, abbiamo letto fin qua, ok, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duri d'orecchi e hanno chiuso gli occhi, affinché non vedano con gli occhi e non odano con gli orecchi, non comprendano con il cuore, non si convertano, e io non li guarisco, ok, e qui si legge, ma beato gli occhi vostri perché vedono, e i vostri orecchi perché odono, in verità io vi dico che molti profetti e giusti desiderano vedere le cose che voi vedete e non le videro, e udire le cose che voi udite, e non le udirono, infatti sta parlando ai apostoli, e sta parlando proprio a noi di oggi, perché questi stessi apostoli sono in giro, questi giorni qua, ok, questa è tutta un'altra lezione per un altro giorno, che ha a che fare con la rincarnazione, ok, e andiamo avanti, voi dunque ascoltate che cosa significa la parabola del seminatore, ecco qui la spiegazione di questa parabola che abbiamo appena visto, e dice, tutte le volte che uno ha la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui, questo è quello seminato lungo la strada, perciò ce ne sono altri, e infatti non capite lo male, perché ha a che fare solamente con la casa di Israele, ok, queste parabole del figlio del padre, Yahweh Shai, tutte le sue parabole ha a che fare solamente con la casa di Israele, e non ha nulla a che fare con le altre nazioni, perciò queste persone che sta parlando qui, con chi è stato seminato nel cuore, sta parlando della casa di Israele, perciò alcuni ascolteranno, sentiranno questa verità, questa verità che è uscita, ok, questa verità che stiamo insegnando noi della Great Mewstone, ok, iniziando dagli apostoli e anziani, ok, questa verità che stiamo insegnando, tanti ascolteranno, ok, ma non gli farà nessun effetto, e dopo poco viene il maligno e porta via quello che è stato seminato, che è questa verità che hanno sentito, non gli farà nel freddo e nel caldo, ok, quelli sono quelli che sono seminati lungo la strada, ok, quello seminato in luoghi rocciosi è colui che odia la parola e subito la riceve con gioia, però non ha radice in sé e è di corta durata, e quando giunge la tribolazione e persecuzione a motivo della parola è subito sviato, questi sono coloro che sentono all'inizio, quando sentono questa verità, buh, li entra nel cuore perché riescono a percepire che è vero questa cosa qua che insegniamo, ma poi tra la linea appena arriva la tribolazione o persecuzione per questa parola, perché infatti vi faccio una domanda, secondo voi tutti gli apostoli che seguivano Yahawashai sono stati tutti uccisi, e la domanda è sono stati uccisi perché predicavano amore a tutti? No, vi dico no, sono stati uccisi perché facevano vedere la verità, e questa verità non andava a coloro che governavano, non andava a coloro che li stanno attorno, infatti, giorno d'oggi, noi siamo perseguitati perché la nostra verità fa male a tanti, YouTube ci bloccano i video, ci impediscono di far spargere questa verità, Facebook ci bloccano, e tutte le piattaforme, e quando parliamo di questa verità delle persone dicendo che le chiese sono false, il nome di Dio non è Dio, il suo nome è Yahawah, il nome di suo figlio non è Gesù, il suo nome è Yahawashai, la gente si impazzisce, la gente dice ma questi qua chi sono, da dove ci vedono come delle sette, e ci vedono male, ecco questa è la verità, e questo è l'effetto che fa la verità a tanti, e continuiamo a leggere, perciò tanti accettano con gioia questa parola, ma poi quando tornano a casa e cercano di raccontarlo alla famiglia, a qualche amico, la gente comincia a vederli strano, subito si impauriscono, e mollano questa verità, parla di questa gente qua, ok, e dice però non ha radice in sé, ed è di corta durata, e quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola, è subito sviato, quello seminato tra le spine è colui che ode la parola, poi le ansiose preoccupazioni mondane e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola, che rimane infruttuosa, ok, questi sono coloro che quando sentono la parola, lo ricevono, cominciano a fare delle cose, passi pian piano, ok, ma visto che questa verità richiede di osservare i comandamenti, di dipendere al 100% sul nostro creatore, il padre, ok, e non dipendere di questo mondo, noi della Great Mewstone, non andiamo dietro a nessuna carriera, non andiamo dietro a fare, a diventare ricchi, non andiamo dietro a comprarci case o chissà cosa, perché sappiamo che questo regno qua, a breve sarà distrutto, e non è la nostra destinazione, noi speriamo sul regno che dovrebbe arrivare, il regno del figlio del padre, Yahawaschai, il regno dei cieli, ok, che sarà su questa terra qua, quando sarà tutto restituito sulla sua, sulla sua, sulla sua bellezza iniziale, quando è stato creato, quando non avremo più questo governo satanica che ci guida, quando non avremo più a che fare con i figli di Esau, che ci stanno governando adesso, che stanno distruggendo tutto, quando potremo mettere in pratica tutti i comandamenti perfettamente senza sviare uno, quando i comandamenti verranno scritti nel nostro cuore, quando ci sarà pace in questa terra qua, noi aspettiamo questo, questo è quello che aspettiamo, non ci ne frega nulla di questo regno qua, di questo mondo qua, infatti se vi devo dire, io che faccio questo video qua, cioè non è a forza mia, ma attraverso la forza e il potere del Yahawaschai, nel nome di suo figlio Yahawaschai, io, sì, ero cantante, avevo questo gran talento, e a un certo punto nella mia vita, mentre imparavo questa verità, ho avuto una proposta da una casa discografica grossa, e di tanti soldi anche, 200.000 sterline, in più avevo tutti i bonus che mi davano ogni mese, e diverse cose, mi ero sistemato già per tutta la vita, ma il padre mi ha dato il potere, mi ha aperto gli occhi a questa verità, e ho negato, e tanti diranno, oh sei stupido, ma che cavolo, bla bla, ma non sanno, non vedono quello che vedo, non capiscono quello che capisco adesso, ecco perché questa verità non è data a tutti, perciò tanti si preoccupano, oh nostro lavoro, cosa mangiamo domani, noi padre non tratta con questa gente così, e andiamo avanti a leggere, ok, quelli seminato tra le spine, è colui che oda la parola, poi le ansiose preoccupazioni mondane, e l'inganno delle ricchezze, soffocano la parola, che rimane infruttuosa, quello invece seminato nella terra buona, è colui che ode la parola, e la comprende, e li quindi porta del frutto, e rende il cento, il sessanta, e il trenta per uno, ok, avete visto, perciò noi dobbiamo essere questo seme qua, che sente la parola, mette in pratica tutto, e comincia a fare frutto, il frutto è quello di studiare queste parole, ok, darci dentro, ok, aspettare per il prossimo regno che sta per arrivare, e, cioè, avere la fiducia, cento per cento, in quello che sta facendo il padre, nel nome di suo figlio, Yahweh Shai, e cominciare a spargere queste parole, alle altre della casa di Israele, affinché possano aprire gli occhi, ok, e questo è il frutto che dice, che porta del frutto, rende in cento, in sessanta, in trenta e per uno, alcuni dei nostri fratelli, sono molto bravi ad insegnare, hanno portato tanti in questa verità, alcuni ne hanno portato meno, alcuni, sì, hanno portato proprio pochi, ma sono nella verità, e stanno facendo il proprio meglio che riescono a fare, perché a tutti non è stata data la stessa capacità, ok, perciò, questa parabola è molto importante, e una volta letto questa parabola, bisogna chiedersi, che seme sei, che scusa, che terreno sei, che terreno sei, o che terreno vuoi essere, ok, sei quel terreno là, che appena arriva a tribolazioni, butti via tutto, o sei quel terreno là, quando lo senti, non ti fa né freddo né caldo, non ti ne frega niente, o sei quel terreno là, che appena arrivano delle cose, che non vanno bene le tribolazioni, o minacce sulle, molli tutto, o sei quello che lo riceve e produce frutta, ok, i fratelli, della casa di Israele, le poche sorelle, che ascoltano, io prego che il padre apra i vostri occhi, e non desidero tirare a più lunga, poi magari la prossima, Yehawah B'Hashem, Yehawah Shai, volendo, parleremo, e faremo una lezione su, questa parabola qua, e spero che siete stati edificati, e prego affinché, coloro che sono stati destinati a ricevere questa verità, il padre, li possa aprire gli occhi, il cuore, affinché lo possano accettare, e affinché possano cominciare a fare i frutti, miei saluti alla casa di Israele, e ringrazio sempre, adoro sempre il padre, Yehawah, nel nome di suo figlio, il nostro re rendentore, Yehawah Shai, ok, e, miei doppi onori ai apostoli, insegnanti della Great Newstown, che mi hanno insegnato questa verità, e dico, Shalawam, pace. Grazie.